Roma, imbrattata di giallorosso targa dedicata a Lenzini. Nemmeno un giorno. Mercoledì pomeriggio, alle 16, alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dell'assessore al turismo. Grandi eventi e sport Alessandro Onorato, è stato inaugurato il parco intitolato a Umberto Lenzini. Presidente della Lazio che nel 1974 vinse il suo primo scudetto. L'area verde. Prima denominata La Collinetta, è nella zona di Boccea, XII municipio, dove negli anni 60 e 70 Lenzini, da imprenditore edile, contribuì allo sviluppo urbanistico della città. Già nella mattinata di giovedì però l'insegna che riporta il suo nome è stata imbrattata. Su entrambe le facciate, è colorata di giallorosso da qualche tifoso della Roma. Stessa sorte per una parte della fontanella situata all'ingresso del parco. Si sono registrate anche alcune scaramucce, solo verbali, fra tifosi della Roma. Divertiti dall'accaduto, e quelli della Lazio, che invece sono infastiditi. Alcuni bambini. Che con la scuola svolgono sport nel parco, esultano alla vista dei colori giallorossi. A dimostrazione che gesti del genere, oltre che irrispettosi verso la memoria del defunto, e della famiglia. Che per anni si è battuta affinché gli venisse intitolata una strada, sono anche diseducativi per i più piccoli. L'assessore onorato è immediatamente fatto sapere di aver alertato l'AMA, che già alle 10.20 era sul posto per ripulire l'insegna, sulla quale era stato anche attaccato un adesivo sul quale è ritratto un bambino che urina. Accompagnato dalla scritta Il mio sogno fin fa bambino. All'arrivo dell'AMA un tifoso della Roma è inveito contro gli operatori. Avessimo chiamato un'ambulanza non sarebbe arrivata così presto, ma per difendere la Lazio intervenite subito. A dimostrazione che lo sport, a Roma, divide più che unire.